Il nostro paese è ricco da nord a sud di musei bellissimi e interessantissimi, con tesori inestimabili, di epoche passate e opere d'arte di artisti famosi, anche internazionali. Secondo gli ultimi dati, i musei dell'Abruzzo sarebbero i meno visitati d'Italia, in rapporto anche al numero complessivo delle strutture. Secondo alcune fonti, già nel 1100 e 1200, il borgo fortificato di Civitella, costruito per dominare le valli Ascolane e Aprutine, era un punto militare strategico al confine del regno. Il Museo della Fortezza nasce nel 1988, nelle sale prima adibite ai servizi, come il magazzino d'artiglieria. L'esposizione mostra una collezione di armi e cannoni del Rinascimento, fino alle due importanti battaglie del 1806 e del 1860. Fu, probabilmente, Alfonso d'Aragona, a metà del 1400, ad allargare la cinta urbana, mentre agli inizi del 1500 l'architetto Bernardo Buontalenti adattò la Rocca alle nuove esigenze difensive, arricchendola di bastioni circolari e di uno pentagonale. La fortezza si erge per oltre 500 metri sulla roccia e ricopre un'area di circa 25.000 metri quadrati. Fu Filippo II d'Asburgo, nella seconda metà del 1500, a volere la struttura che rimpiazzò la Rocca aragonese. Inoltre, nel 1800, l'adeguamento tattico permise alla Rocca di resistere a lungo assedio dell'esercito piemontese, avvenuto nel biennio 1860-1861. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!